Come potreste? I Fratelli dello Spazio, Voci dall'Infinito, attraverso Wanda, Albano, 30 giugno 1998, a cura di Vubbi, Civiltà e Nu. Voi che vi spaventate nel pensare alla dimensione di una stella o di un pianeta, come potreste arrivare a comprendere e a quantificare la grandezza del cosmo diviso in tanti universi in modo che ogni essere si senta integrato nel suo? Cari e piccoli fratelli umani, avete tutta la nostra comprensione ed è per questo motivo che vogliamo allargare piano piano il vostro orizzonte fino a farvi avvicinare a tale grandezza per dirlo con le vostre parole. In realtà non ne avremmo diverse per definire tutto quanto per noi è comprensibile dal momento che viviamo in un'altra dimensione dove è più facile capire tutto perché siamo consapevoli di appartenere al cosmo. Ora vi porgiamo la nostra dolcezza e il nostro amore affinché possiate comprendere la purezza dei nostri sentimenti. Salve dai vostri fratelli Enù Grazie a tutti i nostri fratelli e i nostri fratelli Grazie a tutti i nostri fratelli e i nostri fratelli